Gli insegnamenti popolari nel mondo oggi. Non so quanto popolari siano a Mumbai, ma in Occidente queste cose sono diventate molto popolari. Qualcuno ti dice, stai nel momento. Qualcuno ti dice, semplicemente lascia andare, andrà tutto bene. Questo significa, ci deve essere qualcuno che si prende cura della tua vita da dietro. Allora puoi lasciare andare. Qualcuno ti dice, fai solo una cosa alla volta, non... Vedi, questi sono tutti insegnamenti regressivi, nel senso, solo per esplorarne uno o due. Cosa puoi lasciare andare? Dimmi. Dicono, semplicemente lascia andare, Dio lo farà. Beh, la vita non ti ha ancora colpito. Ecco perché parli in questo modo. Stai vivendo in un mondo fantasioso. Quando la vita ti colpisce per davvero, allora saprai che non puoi lasciare andare niente. Devi gestire. Lascia andare la tua attività oggi e vedi cosa accadrà. Oppure prova qualcosa di più drammatico. Oggi stai guidando. Semplicemente lascia andare. Tanta gente sembra aver semplicemente lasciato andare e vedi. O sei morto o qualcun altro è morto. Ora, questi insegnamenti popolari, che sfortunatamente sono diventati popolari, hanno rovinato l'umanità alla grande. mi sono confrontato con un gruppo di persone recentemente in America che sono ferventi sostenitori del sì nel momento. Ti chiedo, puoi essere da qualche altra parte? Sì, da qualche altra parte fammi vedere, per favore. Qualcuno di voi può essere in un qualunque altro posto che in questo momento, chiedo? Puoi esserci? Puoi essere da qualche altra parte che qui in questo momento? No. Allora, perché hai bisogno di un tale insegnamento? Quello che stanno cercando di dirti è non pensare a domani, non pensare a ieri. Questo accadrà se togliamo metà del tuo cervello. Se tiro fuori metà del tuo cervello, non puoi pensare a domani, non puoi pensare a ieri, solo essere nel momento. Tutto questo avviene perché le persone non sanno neanche come stare seduti in un posto in pace, ok? Ok? Per questo le persone trovano soluzioni come questa. Shankaran Pillai aprì una farmacia negli Stati Uniti. Un giorno aveva qualcosa da fare, una piccola commissione che aveva da fare, quindi chiese a suo figlio adolescente, per favore, occupati del negozio, solo per un'ora, tornerò. E il ragazzo disse non c'è problema papà. Così lui uscì. Dopo un'ora tornò. Quando tornò, davanti al negozio c'era un uomo che abbracciava il lampione e gli occhi ruotavano all'impazzata e sembrava completamente pazzo. Guarda l'uomo. Se l'uomo vuole entrare nel negozio, sta uscendo dal negozio, non lo sai. Così lo guardò. Poi entrò e chiese a suo figlio chi è quel tipo che sta abbracciando il lampione così? È il nostro cliente? E il ragazzo disse sì papà, è nostro cliente. Cosa gli hai dato? Oh, aveva l'apertosse così gli ho dato una scatola di lassativi e gliel'ho fatti prendere qui. Tutti quanti. Lui disse, cosa? Per l'apertosse gli hai dato dei lassativi. Perché? Dai papà, guardalo. Hai il coraggio di tossire adesso? Ci sono soluzioni e soluzioni. Ma è davvero una soluzione? Questa è la domanda. Quindi, ora siccome non puoi stare seduto in un posto in pace, qualcuno dice sì nel momento, non pensare al passato, non pensare al futuro. Dimmi, puoi chiamarti un essere umano se non puoi ricordare il passato e proiettarti nel futuro. Sarai un essere umano completo a tutti gli effetti, chiedo. Vuoi tornare indietro nella scala evolutiva perché non sai come gestire la tua stessa intelligenza. Questo è il problema più grande con l'essere umano. Il loro unico problema è questo. Puoi chiamarlo con migliaia di nomi diversi. Ma l'unico problema è non sai come gestire la tua stessa intelligenza. Non è così? Vedrai, se togliamo metà del tuo cervello, sarai in pace. Sì o no? Ma chiedo, è questa una soluzione? È questa una soluzione? Togliere metà del tuo cervello? Togliere la tua capacità di guardare indietro al passato e di guardare al futuro. Se togli questa capacità, magari sarai in pace. Ma a che scopo? So che molte persone oggi vanno in giro parlando di essere in pace. La nostra pace mentale è il fine ultimo della tua vita. Anche i cosiddetti insegnanti e leader spirituali vanno in giro dicendo la pace mentale e il fine ultimo. Dimmi con la tua intelligenza. Puoi goderti la tua cena stasera se non sei in pace? Se non gioioso, devi almeno essere in pace per goderti la cena. Non è così? Puoi goderti di guidare fino a casa se non sei in pace? Puoi goderti le persone intorno a te se non sei in pace? Puoi goderti il lavoro che fai se non sei in pace? Chiedo. Se non sei in grado di essere gioioso e statico, almeno devi essere in pace. Non è così? Quindi ti chiedo, è un requisito fondamentale della vita o è il fine ultimo della vita. È il requisito più fondamentale. Ma ora le persone lo spostano in paradiso. Stanno dicendo che la pace è il fine ultimo della vita. Persone simili riposeranno solamente in pace. Qualunque cosa di cui sei privato tende a diventare un prodotto del paradiso. Oggi se dici pace, la gente dice pace divina. Se dici amore, la gente dice amore divino. Se dici beatitudine, la gente dice beatitudine divina. Queste sono tutte cose di cui gli esseri umani sono capaci. Non è così? Essere in pace, essere gioioso, essere amorevole, essere beato. Queste sono tutte qualità umane. Sì o no? Se ne hai la volontà, puoi essere in pace, puoi essere amorevole, puoi essere beato. Ma tutte queste cose sono state esportate in paradiso. Questi semplici aspetti sono diventati complicati a causa di tutti questi insegnamenti. Sto dicendo, non importa da dove venga l'insegnamento, che venga da me o da qualcun altro, tienilo semplicemente da parte. Applica solo la tua intelligenza. Non puoi usare la mia intelligenza, ok? Puoi usare la mia saggezza, forse, ma non puoi usare la mia intelligenza. Puoi usare solo la tua intelligenza. Quindi, con la tua intelligenza, sperimenta. Se funziona, teniamolo. Se non funziona, scartalo domattina. Non c'è bisogno di continuare un giorno in più. Ma, innanzitutto, devi decidere. Stai cercando conforto o stai cercando soluzioni? Se stai cercando conforto, credi semplicemente in qualcosa. Funzionerà. Capisci? Credi che la fonte della vita sia in questa lampadina e ogni giorno fai questo. Funzionerà. Ciò che stai facendo è solamente psichiatria a buon mercato. Sì, stai cercando di gestire il tuo spazio psicologico con qualcosa, usando un ancor all'esterno. Va bene, non dico che sia sbagliato. Se ne hai bisogno, lo puoi fare. Ma se non è quella la tua esigenza, ciò che vuoi è una soluzione assoluta per la vita. Allora ti serve qualcos'altro che non arriverà con questo tipo di insegnamenti popolari. Hai bisogno una forza potente per spostarti da una dimensione di vita a un'altra. Quindi, quando un bisogno tale giunge, se un anelito tale giunge, allora devi cercare la spiritualità, altrimenti semplicemente fa qualcosa. Vai a scalare una montagna, funzionerà, ti dico. Sviluperai la tua fiducia? Sì. Scala una montagna, nuota nell'oceano, tutte queste cose svilupperanno la tua fiducia. oppure credi in qualcosa. Ma a quale fine? Qual è la tua esigenza? È qualcosa che devi vedere. Hai un anelito per l'assoluto o stai solo cercando di gestire il tuo dramma psicologico? Questa è una prima distinzione che devi fare. Ma il tuo dramma psicologico può essere gestito solo dall'interno. Puoi credere che stai usando un aiuto esterno, ma in realtà puoi solo gestirlo dall'interno. perché questo è un fantasma che crei tu. Non puoi ucciderlo dall'esterno. Quindi rinuncia a tutti gli insegnamenti. Starai bene. a tutti gli insegnamenti. All'esterno. All'esterno. a tutti gli insegnamenti. All'esterno. 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 Grazie a tutti.